Eccoci qua direttamente dal polo commerciale di Ascea Marina, il polo dell'amicizia, della qualità e della convenienza del gruppo infante. Dopo zucchero e cannella, a Ioca, il negozio del tuo amico a quattro zampe, siamo qui all'inaugurazione dei supermercati Deco, la tua scelta quotidiana. Andiamo a vedere l'inaugurazione. Respetiamo! Uno, due, tre. Salve, champagne! Carmelo, finalmente grande apertura ad Ascea Marina! Salutiamo tutti gli amici, veniteci a trovare qui ad Ascea Marina. Abbiamo finalmente quest'oggi ampliato il polo dell'amicizia, della qualità e della convenienza con l'apertura del supermercato Deco. Dopo zucchero e cannella, a Ioca, finalmente su mercato Deco, via Berlinguerra ad Ascea Marina. Sì, buongiorno a tutti e benvenuti. Sì, stamattina si completa questo polo commerciale. A Ascea siamo contenti perché Ascea Marina meritava un supermercato di queste dimensioni, perché diamo comunque maggiori servizi. Ascea comunque è una località che viene molta gente d'estate ed è un punto di vendita che questo eleva anche nel sociale e dà maggiori servizi. Soprattutto è importante anche per i tanti posti di lavoro che naturalmente tu garantisci alla popolazione e al Cilento. Sì, qui oggi sono occupati circa 30 persone. Si prevede che nel periodo estivo ci sarà un incremento di altro personale e cerchiamo che tutto vada come programmato. Ok, quindi abbiamo una grandissima selezione di formaggi, la mammarella, quindi abbiamo tantissime novità, tutta la parte dei sottoli delle olive, tutta la selezione di tutti i tipi di salami, di salumi, cilento, nazionali, internazionali, quindi veramente abbiamo ampia scelta. Ormai la nostra selezione di salumi è ben conosciuta, cerchiamo di dare i migliori prodotti e di offrirle comunque al migliore prezzo. Garantiamo il prezzo più basso. Benvenuti di questa giornata in diretta da Ascea Marina per il nuovo Deco Supermercati. Secondo ospite di questa giornata, signori, abbiamo il dealer. Se vogliamo utilizzare un termine un po' più vicino a noi, è il titolare di questo nuovo punto vendita, Carmelo Infante del gruppo Infante, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, grazie. E allora, giorno di festa, il gruppo Infante che mette un altro tassello in un mosaico fatto di grande distribuzione.